Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio dell'avventura in minecraft. Io sono Filipe The Best e qua c'è il mio compagno d'avventure, Tenente 2001. Ho detto Tenente 2001. Ma che è successo, io siamo venuti a Tenente 2001, Tenente 2001. Ciao a tutti. Ok. In questo episodio, come avete potuto intuire, abbiamo tutte e due le cani da pesca e quindi andiamo a pescare. Dai. A me sta laggando. Aspetta, scusate un secondo ragazzi. E ho pensato, Federica, Federica. Che c'è? Ho pensato di fare una cosa. Cosa? Si ti sento. Qualche episodio? Facciamo una situazione di emergenza in cui dobbiamo scappare, ok? A qual episodio? Non lo so, a qualunque. Qui, al cinquantesimo. Ok. Dai. Dai, andiamo a pescare. I pescatori vanno. I pescatori vanno. Lancia lunga. A me lagga. Io sono solo di te. Non vedo qualche cosa. Non so, non c'è chi niente. A me e te non ti vedo. È un pesciolino peso. Ma dove sei? Io sono sotto di te. Dall'altra parte, circa. A me non ti vedo. Dietro di te. Accanto a te. Ah, ok, ora ti vedo. Vabbè, che mi lagga a me. Ok. Li hanno incrociati. Io già ho un pesciolino. Eh. Questo episodio sarà una schifezza. Vado a dico subito. No, niente. Ma è lunga. Ho visto qualcosa in lontananza. Ho visto qualcosa in lontananza. Eh, era... Era il mio amo. No. Ho visto qualcosa veramente in lontananza. Che cos'è quello? Un pozzo. Invece. È crashato. Sì Sei grasciato? Eh Ecco Sei grasciato? Sì C'è un pozzo in lontananza Un pozzo? Sì Un pozzo vale a dire incinta Un pozzo c'è Civiltà vale a dire salvezza C'è un pozzo Dov'è il pozzo? L'ho perso Ah là è il pozzo Dov'è il pozzo? Lo vedo, lo vedo È in quell'isoletta? Sì Civiltà Arrivo Non lo vedo più io Io lo vedo No io non ho paio, io devo mangiare Vado A controllare Ehi qua Attenzione Nel mare Mare vale a dire Pesci vale a dire cibo Cibo vale a dire salvezza Ah ah E non mi abbocca niente Perché non mi abbocca niente Nessuno lo può sapere Ma dove sei? Io? Dove sono? Ah allora tu sei là Io sto andando in questa Ho preso Ho trovato il pozzo Il pozzo senza fondo Ok C'è un pozzo senza fondo Andiamo Noi andiamo Noi andiamo Non l'ho mai visto Sai Io ti vedo sotto l'isola Cosa? Io ti vedo sotto l'isola Vedi che io sono sull'isola Bene perché io ti vedo sotto Trovate il pozzo Aia cactus Non c'è niente Non c'è ne acqua? No no l'acqua c'è Chissà se troveremo dei villaggi tipo Potrebbe Nel deserto vale a dire tempi Tempi vale a dire casa Casa vale a dire salvezza Mi sapete un po' pazzo? Pensate che sia pazzo Io sono pazzo Pazzo vale a dire non salvezza Mi sto allontanando troppo Torno in casa perché non c'è niente Hai un piccone di Pdc? Sì sì Qua c'è tanta arenaria La prendiamo Dai no fregata Ci serve un cavolo l'arenaria Dai andiamo a casa Non hai trovato civiltà? No Non ho trovato nessun villaggio Potevamo trovare le Le cose Le piramidi Trovavamo un sacco di cose Le piramidi? Sì Il super piatto No il super piatto non esistono le piramidi No 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 A me Dove sei? Dove sto cadendo? No Io sto storno alla casa Io anche No Aspetta peschiamo un attimo Ho preso LOL Ho preso uno squid e l'amo Vero? Sì Però mi sta laggando Non so perché Vero? Sì sì Lancia lungo Io non perco più niente Non l'ho capito perché Non ce n'è uno vicino Ho preso qualcosa No E' andato Non piglio più niente Se ti resisti Cavolo non sto prendendo niente io E' vuoto il mare Questo è l'oceano E' vuoto Questo è il mare tirreno Vabbè ciao No non ho preso Ho pescato Ho pescato Un pesce Io ne ho ancora uno Facciamo una gara Che pescare più Ok Oh Mh 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 Piatto Sono a due A me stava per prendersi E' un po' Mh 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 Dai, che sia una verità veloce Forza, capisce Tre Stavo facendo qualcosa No Lo stavo prendendo, ho sbagliato Non ti vorrei dire una cavolata Eh, tre No, io ero già tre, cavolo che cagata che ho fatto Mi spiace, eh sì, mi spiace informarti che si sta facendo la notte Eh, facciamo l'ultimo pesce Potevi prendere il quarto pesce Madre mia, la connessione di merda Eh sì, infatti Pure io sto laggando Una connessione di merda Una tacca No, tu hai tutte tacche Io ho Tu hai tutte No, non l'ho preso Potevo pigliare No, una tacca Sì No, io ne ho Tu ce ne hai tutte, io lo vedo Ah, ora ne ho tre Io quanti ne ho? Beh, non lo vedo il tuo Schiaccio a Jay, schiaccio a Jay Jay Jay, schiaccio a Jay Non ti devi prendere niente Stieni premuto a Jay No, niente Vabbè, io ho due pesci Hai vinto tu Io ho tre Ho vinto Ma ci sono Ma per forza il cinquantesimo episodio Ma sì, dai Se continuiamo così Ci arriviamo velocemente Al cinquantesimo Ok Sette canne Da zucchero Sì, stai attento Che ci siano già spavolati Mob Sì, non lo so Non ho visto Attento che c'è Uno scherzo Che ti sta mirando Io sono troppo veloce Ah no Appena fai arrivare a casa Ti ammazzo io Ok, già è arrivato a casa Quindi Il problema è uscire da casa E entrare in casa